Salame Ti ha detto un minero de salame, come posso mangiare? Che mi stanno cadendo tutti i denti Scusate, signorio mia, scusate Sano ma agliottivo Quasi sano ma agliottivo Allora, Samara, quando tu ti compri questi salamini e così mangiatele tu, un minerale, uno vede a mamma che ci metto tre ore a masticare Non ce n'è più Signore, si accatta certi salami, ma così dure Ma così dure C'è di uscire pazzi C'è di uscire pazzi Cioè io quando vado nel salumiere Io ci dico, mi devi dare un po' di salame Affettato di quello morbido Mi sta facendo... Scusate L'acqua Ah Mi taglio Neanche poteva scendere più Ora scendio, forse fu perché mi sono alzato Mangiatele tu, va bene Questi salami due Poi tu mi devi dire dove l'hai comprato Dove? Eh... Ora poi ci vado io Ci riuscire salami e l'urre a me figlia Non ce la dare più Ah, a te piacciono così Mangiatele tu Signori, sono molto nervosa Sono molto... Si accattò pure perché a dieta Nella dieta non sapevo che c'era pure il salame E quello duro Non lo sapevo Perché io spesso Quando sento dire dieta Non si mangiano grassi Non si mangiano ste cose Invece no C'aveva un salame Hai capito? La dottoressa sua ci mise il salame Ma penso che te ne ha messo due fettine Che tu mangi tutto E che stasera Niente, signori miei Niente Quindi ci dicevo Oggi venne con una cosa Di yogurt Tutto senza Lettoso Tutto senza letto Che io lo amo Custa Custa Capito? Lei deve vedere la mia pazienza Sono scesa subito Ho preso quello nel secchio Sabe che venne con il tuo secchio Custa picca L'ho aperto tutto piano piano Perché ce lo do io la mattina Ce lo apro Ho aperto tutto piano piano Prima mi zeva cavo tutto questo Senza lettoso Da me Oggi mi ricreavo Sono andato in bagno Bellissimo E' stato veramente molto bello E a lei ci mise quello intero Intero Ma la bellezza sapete qual è? Che sta scalando Che facciamo che io mi mangio le cose sue Che sono pregiate E io prendo peso E io sta scalando che cose mia Con yogurt quello intero Hai capito? Come si fa da questo? E' di marca Devi vedere che marca Che sa cattosto di yogurt Un mare piccola Capito? Perché lei però fa dei piccoli lavoretti Dà una mano Ad un'amica mia che c'ha una parruccheria Cufono Te capite? Che solo chi si sape fare Il fono Capito? Ida ci mette i testi Dà l'avanzo Asciuga E lei asciuga E quindi si piccola e caccia l'una Ida si va a spendere tutti In questo mangiare Pregiato Tutti sti frutti asotici Tutte sti cose di qua La fettina Tutte sti cose Signori miei L'altra volta vinne come Un attimo che me lo faccio dire Come si chiama la carne che mangi per ora? Asama La certa La certa Cioè che è pregiata Con sue poche As no 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 niente così Lo volevo sapere Che l'umano sta accanto L'umano sta accanto Sì Quindi sono scesa Ho preso io tre fette di cotoletta Di quarto taglio Abbattio Chiedo Bello sistemato Fari Chi cucina? Io Io ce l'ho cucinata Come sa manciò E io Ho mangiato la certa Quella sua che era buona Che era eccezionale Che sapore Capito? Ida sta dimagrendo che cose mia A dire grazie a mia Grazie a me No 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 niente niente Così stavo per Ha capito? Come vanno le cose? Tutto qua Va bene Signori miei Vi mando un grosso saluto Da parte mia A tutti voi Veramente Con grazie Grazie Poi volevo ringraziare Che può essere che vede questo video Una signora Che mi è venuta A trovare da Agrigento E Nel locale Domenica Ok? A pranzo Mi è venuta A trovare Si è fatta Tanta strada Per stare con me Un po' con me Persona veramente Favolosa Tutte le persone che c'erano Erano favolose E E mi ha portato Una cascia di arancia Da Ribera Ok Agrigento Ribera Su due passi Poi lei era Della provincia di Agrigento Grazie Un po' di verdura Ha già ivore cuo E popuro Bellissima Tutta fresca Nel locale stesso Là Grazie di cuore Grazie Grazie E allora Vi voglio bene Ci vediamo presto Ciao Ciao